Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del Tg6. Parliamo subito in prima pagina dello scontro in seno al Consiglio regionale, scontro all'emiciclo con al centro dell'attenzione il mutuo che l'ente regione dovrebbe accendere, un mutuo da 100 milioni di euro con cui la maggioranza intende accelerare il piano di rientro dal disavanzo di 550 milioni e contro cui l'opposizione promette battaglia. Un po' come in tutte le famiglie anche all'emiciclo si discute ed anzi si litiga sull'opportunità o meno di accendere un mutuo per far fronte ai vecchi debiti. La misura arriverà oggi in Consiglio regionale, si parla di un prestito di circa 100 milioni di euro che comporterà ovviamente degli interessi che andranno ad aggiungersi ai 550 milioni di euro di disavanzo da colmare con un doloroso piano di rientro che per fortuna grazie ad un emendamento in finanziaria sarà allungato da 7 a 10 anni con conseguente abbassamento dell'importo annuale delle rate. Fibrillazioni anche a margine della prima commissione bilancio questa mattina dove la maggioranza sposa la tesi dell'assessore Silvio Polucci. Non è un nuovo mutuo ma la riautorizzazione di vecchi indebitamenti che risalgono al 2006. Ma in realtà non è un mutuo per far quadrare i conti. È una delle iniziative messe in campo per cercare di riallinearci nel modo più veloce possibile rispetto a tante prescrizioni normative nuove ed avendo purtroppo un punto di partenza che era quello di un disavanzo accumulato negli anni che ormai almeno per l'arcertato va a oltre 550 milioni di euro il mutuo va in questa direzione tutta tecnica non è una forma di indebitamento in senso sostanziale anche perché si riferisce a mutui già precedentemente approvati e poi non contratti in altre annualità. Chiamate la riautorizzazione un mutuo rispondono a Musoduro le opposizioni del centrodestra e del Movimento 5 Stelle che annunciano battagli in aula. La verità sostengono è che gli abruzzesi per colpa di questo prestito che potrebbe essere evitato con altre economie per i prossimi 30 anni oltre ai vecchi debiti dovranno pagare anche 4 milioni di euro aggiuntivi di interesse all'anno. È una follia, è semplicemente una follia e ricordiamo che l'ultima volta appunto è stato fatto nel 2006 la vecchia amministrazione non ha avuto mai bisogno di contrarre questo mutuo perché punto interrogativo, perché si rende necessario oggi tra l'altro che si stanno liberando delle cartorializzazioni perché servono più soldi. All'ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi pomeriggio oltre al controverso mutuo un progetto di legge in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi un altro progetto di legge che intende contrastare gli sprechi alimentari e poi la più volte rimandata nomina del garante dei detenuti è una variazione di bilancio relativa al budget di funzionamento del Consiglio regionale. A Chieti si è svolto un incontro tra i legali di confartigianato e gli obbligazionisti subordinati in discussione le azioni da intraprendere rispetto ai titoli in pancia la Consorzio Fidi. Sono una cinquantina gli iscritti alla confartigianato di Chieti che si sono riuniti nella sede della loro associazione per discutere delle mosse da intraprendere rispetto alle obbligazioni subordinate contenute nel portafoglio del Consorzio Fidi. La situazione delle quattro banche salvate dal governo Renzi con apposito decreto tra cui c'è anche l'abruzzese Carichieti resta ancora confusa così come in via di definizione il destino dei rimborsi delle obbligazioni azzerate per questo la confartigianato di Chieti ha messo a disposizione i suoi legali per decidere se e quali azioni legali intraprendere. La materia è complessa perché ci andiamo a scontrare contro il sistema bancario contro il Banca d'Italia contro il governo stesso che ha delle gravi lacune e noi ci faremo portavoce e andremo avanti fino in fondo a qualsiasi costo per tutelare le ragioni di questa comunità che a dire il vero è stata colpita di meno rispetto alle altre tre banche coinvolte comunque parliamo di oltre 700 risparmiatori coinvolti con la cassa di risparmio di Chieti che meritano a tutti gli effetti che i propri risparmi vengano tutelati perché nella maggior parte dei casi si tratta di risparmi di una vita fatti con tanti sacrifici. Intanto dalla nuova Carichieti fanno sapere che la banca ora è solida perché tutte le sofferenze che hanno portato alla crisi dell'istituto di credito teatino sono confluite nella cosiddetta bedbank. Basteranno queste rassicurazioni a placare l'ansia di chi teme di perdere tutto? Garanzie per i correntisti e per i dipendenti sono state chieste dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio in un incontro con il presidente della nuova Carichieti Roberto Nicastro l'amministratore delegato Salvatore Immordino e la componente del CdA Maria Pierdicchi il sindaco ha offerto la propria disponibilità a far sì che Carichieti possa tornare a riconquistare la fiducia dei cittadini continuando ad essere la banca del territorio vicina alle imprese e alle famiglie. Oggi i numeri ci dicono che degli oltre 92 mila correntisti sono 728 i sottoscrittori di obbligazioni subordinate lo 0,8% ha affermato il primo cittadino e fra questi 42 sono coloro i quali hanno una esposizione più importante per loro ha proseguito Di Primio interverrà certamente il governo attraverso il fondo da 100 milioni di euro stanziato ma tale fondo secondo Nicastro dovrebbe intervenire anche per coloro i quali hanno sottoscritto obbligazioni subordinate con un range di pericolosità media. Preoccupazione dei lavoratori di Villapini per la vicenda Carichieti abbiamo ascoltato il legale delle maestranze che ha spiegato i motivi dell'apprensione degli stessi lavoratori. Avvocato Di Carlo lavoratori di Villapini preoccupati per la vicenda Carichieti perché? Perché la curatella del fallimento Villapini ha depositato presso l'istituto Carichieti l'importo di 31 milioni di euro e siccome tutti sappiamo dalle cronache nazionali e purtroppo anche internazionali di che situazione vive quell'istituto i lavoratori chiedono che la curatela ritiri questo importo ripeto 31 milioni di euro e venga autorizzato il deposito presso un altro istituto. Quindi a questo punto che cosa potrà accadere? L'auspicio è più in generale che la Carichieti riesca a superare questo momento terribile così come gli altri tre istituti italiani. Mi consente però di approfittare dell'ospitalità di TV6 per dire una cosa i lavoratori del fallimento Villapini lamentano da tempo e colgo l'occasione il fatto di non avere un loro rappresentante nell'ambito del comitato dei creditori. È una cosa assurda a mio avviso. Villapini aveva 650 dipendenti che non vi sia un dipendente a rappresentarli nell'ambito della procedura trovo che sia una cosa piuttosto grave. Uno straniero di 51 anni residente a Penne è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente agricolo avvenuto a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo sempre nel Pescarese in base ad una prima ricostruzione l'uomo è finito sotto un trattore che si è ribaltato il 51enne è morto sul colpo per un trauma cranico con successivo arresto cardiocircolatorio e a nulla è valso quindi l'arrivo dell'eli di soccorso del 118 sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri un anno ciascuno pena sospesa all'ex dirigente scolastico della direzione didattica statale di Pineto Gaetano Avoglio all'ex responsabile dell'area tecnica manutenzione e ambiente del comune di Pineto donato d'Evangelista e all'allora direttore dei lavori commissionati dall'IPAB Ercole Ferretti si è concluso così questa mattina il processo che vedeva i tre imputati per lesioni colpose per la vicenda della maestra di Cellino che nel 2010 a soli 27 anni rimase paralizzata a causa del crollo di un muretto esterno della scuola elementare di Mutignano di Pineto precipitando giù con un volo di 3 metri processo nel quale la madre e la sorella della donna entrambe assistite dall'avvocato Enzo Formisani si sono costituite parte civile e al termine del quale il giudice Roberto Veneziano è invece assolto per non aver commerso il fatto Monia Candelori all'epoca dei fatti segretario dell'ex IPAB proprietaria dell'edificio scolastico tornano a far sentire la propria voce i dipendenti degli istituti riuniti di Chieti che si occupano dell'assistenza ad anziani e disabili l'ente versa in una grave situazione finanziaria vanta 2 milioni e mezzo di crediti che non riesce a riscuotere le maestranze sono preoccupate per il loro futuro all'orizzonte uno stop dell'assistenza essere sull'astico ad oggi essere impossibilitati ad onorare tutti i pagamenti inerenti gli stipendi dei lavoratori inerenti i fornitori inerenti le utenze e quindi ci troviamo in una situazione economica che è deprimente per una struttura che esiste nella città di Chieti dal 1866 e io colgo l'occasione di rivolgermi a tutte quelle persone che hanno la possibilità e sono attori principali di questo film di darsi da fare di cercare di aiutarci a trovare una soluzione per questi che sono problemi vitali per la nostra struttura ecco ad oggi siamo economicamente morti è da più di un anno che subiamo dei ritardi ma noi dal mese di febbraio abbiamo avuto diversi incontri dal perfetto e abbiamo dichiarato lo stato di agitazione fino ad arrivare anche a incontri con lo stesso Luciano D'Alfonso l'assessore Paolucci il dottor Muralia il presidente di Pangrazio il presidente della quinta commissione il dottor Olivieri e pare che tutti fossero propensi a risolvere i nostri problemi ma ad oggi hanno tolto la dignità a prescindere dal personale ma soprattutto anche quegli utenti che noi abbiamo qui purtroppo non possiamo fermarci per una questione anche di etica e perché loro non c'entrano niente l'assistenza minima che sia gliela dobbiamo dare per forza però forse saremmo costretti a fermarci perché non avendo più risorse non si riesce nemmeno a comperare il pane Continua l'attività di contrasto alla contraffazione da parte della Guardia di Finanza in concomitanza con le imminenti festività natalizie le fiamme gialle di Roseto degli Abruzzi hanno sequestrato oltre 5.400 giocattoli contraffatti 7.000 luminarie prive del marchio CE il proprietario delle merci un uomo di origini campane è stato denunciato all'autorità giudiziaria i rischi della rete per i ragazzi questo l'argomento che è stato affrontato oggi a Pescara nel corso di un incontro che si è tenuto al Flaiano fra i ragazzi delle scuole superiori e la Polizia delle Comunicazioni Dottoressa Narciso oggi si parla di cyberbullismo dei rischi connessi all'uso di internet per i ragazzi c'è stata questa interessante conferenza al Flaiano rischi che sono sempre dietro l'angolo e nell'ambito della campagna una vita da social che la polizia postale delle comunicazioni porta avanti già da qualche anno in modo itinerante in giro per tutta l'Italia abbiamo deciso di proporre ai ragazzi una storia vera per riflettere magari in modo un po' più appropriato più profondo la storia è stata illustrata dal regista Luca Pagliari e narra la storia del ragazzo che a Roma qualche anno fa nel 2012 precisamente si tolse la vita quali sono i rischi maggiori connessi all'utilizzo di internet per i ragazzi di oggi? semplicemente l'inconsapevolezza perché i ragazzi sono molto bravi sono molto bravi con internet sono molto bravi a livello informatico conoscono il mondo del web lo utilizzano sicuramente per tutte le sfumature che può dare e le notevoli opportunità che può dare non conoscono sempre i rischi che si celano però è necessario che sappia che esistono questi rischi è necessario che sappia che episodi come quelli del bullismo che qualche anno fa come oggi erano atti di prevaricazione oggi sono diventati atti di prevaricazione virtuale e che però corrono e si diffondono sulla rete in modo molto più veloce rispetto a qualche anno fa il presidente della regione Luciano D'Alfonso nella sua veste di commissario ad acta per la sanità ha inviato una nota ufficiale al ministro della salute Beatrice Lorenzin nella quale chiede di sottoporre al comitato percorso nascita nazionale la richiesta di tenere in attività il punto nascita dell'ospedale San Liberatore di Atri il punto nascita triano insieme a quelli di Ortona Penne e Sulmona era stato oggetto di un contestatissimo provvedimento di chiusura sulla cui legittimità si attende ancora il pronunciamento del tribunale amministrativo regionale il tribunale per i diritti del malato Bacchetta i politici Teramani nulla è stato fatto in 5 mesi dalla richiesta per applicazione del decreto Lorenzin e la ricaduta sull'azienda sanitaria Teramana avevate fatto degli appelli anche ai politici visto il decreto Lorenzin sulla sanità si parla di Aslunica si parla di tanto altro ma non si parla di effettivamente quello che poi i cittadini andrebbero a soffrire Certo proprio così noi avevamo fatto un appello appunto a giugno affinché tutti i politici Teramani qualsiasi partito quelli che poi ci rappresentano al consiglio regionale ma anche i vari sindaci eccetera affinché lavorassero tutti insieme proprio perché l'ASA di Teramo avesse Teramo come ospedale di riferimento quindi come ospedale al top di secondo livello il che vuol dire secondo livello avere tutte le specialità previste proprio dal decreto Lorenzin e queste ce le ha ce le aveva e dovevano essere potenziate e migliorate laddove c'erano delle carenze e il secondo ospedale quello di Giulianova che non poteva essere e non può essere un ospedale di base eventualmente anche senza pronto soccorso ma deve essere e rimanere un ospedale di primo livello anche perché come sappiamo benissimo sulla costa terramana dal mese di di maggio fino a settembre in otrato la popolazione triplica se non quadruplica quindi il cittadino deve poter trovare nella struttura pubblica la soluzione ai suoi problemi sanitari questo è un punto forte che noi chiediamo il cittadino terramano anche poi l'asra di terramo ricade ricoppia diciamo tutta la provincia la provincia di terramo andrebbero ad aumentare la mobilità passiva dell'asra di terramo ma non soltanto un discorso economico per l'asa ma soprattutto quello che a noi importa principalmente è che il cittadino si troverebbe in difficoltà il cittadino con problemi sanitari si troverebbe in difficoltà e dovrebbe quindi spostarsi sulle novità del nuovo piano spiaggia arrivano critiche dell'esponente di rifondazione comunista Maurizio Acerbo piano spiaggia del comune di Pescara Acerbo ci sono ancora novità per quanto riguarda il piano spiaggia del comune di Pescara di cosa si tratta? Sì una cosa molto negativa perché il comune di Pescara ha previsto meglio la giunta comunale di Pescara per ora di aumentare di consentire l'aumento del 30% agli stabilimenti balneari cioè il 30% in più di volume sulle spiagge Pescara è già la città che la riviera con il mare invisibile inaccessibile la vista mare è preclusa quasi ovunque dare la possibilità di ampliare di un ulteriore 30% a me pare una follia la giunta comunale racconta il vice sindaco del vecchio che sia un obbligo derivante dal pessimo piano votato insieme da D'Alfonso e Forza Italia ma quel piano comunque non obbliga il comune è una facoltà quindi una scelta che fa la giunta di Padovano del vecchio e Alessandrini gli stessi che non hanno messo i divieti di balneazione quest'estate per favorire o ingraziarsi secondo me da matti la categoria dei balneatori noi invitiamo il consiglio comunale a non approvare questo piano così non è vero quello che ha detto del vecchio che è stato concertato con gli ambientalisti noi invitiamo la cittadinanza quindi e l'associazionismo a protestare perché il mare è di tutti non è solo di una categoria e agli stessi amici balneatori diciamo noi siamo con voi per batterci per il mare pulito ma non potete chiedere la solidarietà sulla Bolkstein e poi pensare ancora che si possano fare queste cose da far west sulla spiaggia Col di Retti ha organizzato all'interno della sede della Camera di Commercio di Chieti un convegno per discutere su come tutelare il Made in Italy e il Made in Abruzzo alimentare sempre più oggetto dei desideri delle agromafie sotto attacco dei prodotti cosiddetti Italian Sound Made in Italy Cibo sano e giusto è il titolo del convegno promosso dalla Col di Retti Chieti e dall'osservatorio sulla criminalità in agricoltura che si è svolto nella sede della Camera di Commercio Tiatina evento che ha riscosso notevole gradimento poiché la sala era gremita obiettivo primario dell'incontro la tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare l'esigenza di tutelare anche all'estero i prodotti della nostra terra noi ci troviamo in situazioni come per esempio le imitazioni l'Italian Sound le falsificazioni che erodono il Made in Italy erodono in maniera consistente vogliono dire 300.000 posti di lavoro vogliono dire 60 miliardi di fatturato ecco allora queste imitazioni devono essere ovviamente controbattute del resto un prodotto come può definirsi italiano se è trasformato in Italia oppure se è fatto con materia prima italiana trasformazione in Italia e poi definitiva commercializzazione a questo punto su tutto quanto il territorio nazionale ovvero all'estero allora su questo si dibatte tra disposizioni comunitarie e disposizioni nazionali per arrivare a un giusto equilibrio all'interno di questi valori che appaiono contrapposti la contraffazione alimentare può diventare secondo Coldiretti una frode sanitaria se il cibo viene prodotto con materie prime scadenti una problematica che purtroppo non risparmia l'Abruzzo e la provincia di Chieti soprattutto nella produzione di olio extravergine di qui il consiglio accorato di Coldiretti a consumare olio della filiera corta controllando accuratamente le etichette condivido molto la battaglia di Coldiretti e li ringrazio per affermare sempre di più questo importante tema delle agromafie un prodotto su quattro a livello internazionale è costituito da prodotti sani e di identità mentre tre su quattro sono rappresentati da prodotti assolutamente falsificati nel mondo i pescaresi potranno tornare a mangiare molluschi bivalvi vongole e altri prodotti pescati in mare dopo la revoca dell'ordinanza comunale di metà novembre per la presenza di salmonella a Natale i cittadini di Pescara potranno tornare a mangiare le vongole il caso di dire nel senso che possono tornare a mangiare le vongole della produzione o meglio della pesca dei nostri territori dopo che è stato diciamo da parte dello istituto zooprofilattico e della ASL rimossa la condizione ostativa che era quella della presenza della salmonella peraltro soltanto in un piccolo tratto adesso le vongole sono perfettamente diciamo commestibili sia pure dietro il trattamento che si conviene per essendo una zona di tipo B tutte e due le aree come si può vedere dalla cartina sia la precedente che l'altra successiva sono tornate come aree di zona B quindi vongole pescate trattate e messe sul mercato di produzione locale quindi senza nessun problema per l'alimentazione quindi non ci sarà nessun problema per la salute dei pescaresi dei cittadini assolutamente no abbiamo fatto il provvedimento contingente urgente e condingebile immediatamente alla venuta a conoscenza del provvedimento da parte della ASL e così altrettanto abbiamo fatto per la rimozione nel momento che è venuto meno l'elemento ostativo alla pesca delle vongole il comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Teramo ospita la tappa dell'ottavo giro di taglia delle donne che fanno impresa la finalità è fornire strumenti informatici e formativi negli ultimi cinque anni l'ente camerale di Teramo ha destinato direttamente alle imprese femminili risorse per 733.000 euro le imprese rosa rappresentano una componente fondamentale del sistema economico teramano considerando che sono 8.940 le imprese femminili registrate l'evento di oggi vuole affrontare i temi della leadership nella conduzione delle imprese femminili oltre che fornire indicazioni su come cercare inventare e trovare lavoro le donne imprenditrici devono unirsi e fare rete ma in realtà non solo le donne imprenditrici di tutte le donne che intendono avere un ruolo incisivo in questa società e questa è una mission fino dicevo poco fa le ragazze delle scuole superiori che hanno partecipato a questo incontro fino a qualche tempo fa inserire le donne nel mondo del lavoro era considerata quasi una missione benefica oggi si è capito che le donne sono una risorsa e le avventure finanziarie che hanno caratterizzato il nostro secolo hanno sottolineato come la capacità di cura femminile che si esplica anche nelle modalità di gestione della finanza e dell'impresa è fondamentale a fianco della capacità di rischio e all'aggressività maschile ma negli ultimi due anni la crisi ha colpito anche l'imprenditoria femminile nel corso dell'ultimo biennio infatti si sono perse circa mille imprese rosa la Camera di Commercio ha investito la Camera di Commercio di Teramo per sostenere la nascita di nuove iniziative con le donne protagoniste ritengo che in un momento in cui bisogna inventare qualcosa di nuovo perché le difficoltà generalizzate dell'economia e quindi della nostra società ci invitano a fare cose nuove e noi sappiamo che le donne sono in grado di svolgere un ruolo e quindi devono essere utilizzate devono essere recuperate a una funzione importante d'altro canto senza voler adulare le donne senza voler dire cose belle siamo fermamente convinti e lo riscontriamo nei fatti di ogni giorno che le donne hanno una particolare determinazione nel raggiungere i risultati si chiama Canzone d'Italia nel mondo il progetto voluto da Teddy Reno che anche grazie all'iniziativa del consigliere regionale Luciano Monticelli vuole diffondere anche il brand Abruzzo progetto importante da un'idea di Teddy Reno progetto per la ricerca della melodia italiana nei cinque continenti di cosa si tratta in particolare? abbiamo deciso io l'ho fatto come ultimo atto della mia carriera settantennale di andare a trovare delle anche fatto da un compositore sudcoreano dico a caso sudcoreano senza parole però dopo noi possiamo metterci sulle parole ma ci deve essere una melodia portata poi ritmicamente in forma moderna in maniera che piacciono anche ai giovani allora questa idea qui la stiamo realizzando abbiamo avuto dei bei successi all'Expo Milano Elisa Elisa Ricitelli per chiudere una giovane artista al fianco di un di un grande un mostro sacro della musica italiana sì allora per me è un onore in quanto io comunque sono davvero giovane ho vent'anni e trovarmi al suo fianco è davvero un'emozione grandiosa nonché ho fatto tantissime belle esperienze e spero di continuarne a fare altissime ne fai ancora adesso anche ultimamente sì assolutamente sì tanti cari saluti e viva la canzone italiana viva la brutto grazie partita a Pescara la settimana Teleton uno spettacolo per la raccolta fondi a favore della fondazione si è svolto al teatro Sant'Andrea Valeria D'Ignazio la responsabile Teleton di questa sera per questa manifestazione importante arrivata alla 26esima edizione un impegno che si rinnova volevo ringraziare oggi tutte le persone che stanno partecipando a questo evento sono 26 anni che la Banca Nazionale del Lavoro sostiene Teleton e la cura per le malattie genetiche ringraziamo veramente tutti per la collaborazione e anche chi ci ha dato una mano a sostenere questa giornata la scuola Domus Maria di Pescara con i bimbi che svolgeranno canteranno delle canzoni di Natale e l'associazione Bianca Azzura di Pescara di Ginnastica Artistica l'importante come si diceva prima è lo scopo di raccolta a fondi verso queste malattie rare davvero importante no? Sì Teleton sostiene le malattie geneticamente rare e quindi noi siamo contenti specialmente in questo momento quando si avvicina a Natale di poter dare anche noi un sossegno veramente forte sia che non sia soltanto di denaro ma anche fatto con il cuore il 16, 17 e 18 dicembre appuntamento a Teramo con Favolando prima di Natale evento culturale e sociale giunto quest'anno alla quarta edizione ha avuto un successo crescente superando nell'ultima edizione le mille presenze con la partecipazione di tutte le scuole primarie di Teramo quest'anno abbiamo il coinvolgimento diretto della provincia di Teramo con la presenza anche del presidente ma come l'anno scorso ed è una novità dell'anno scorso anche i bambini delle case famiglie della provincia di Teramo che parteciperanno l'ultimo giorno cioè il 18 pomeriggio alla festa finale dell'evento primo giorno tutte le mattine 16, 17 e 18 dalle 10 alle 12 l'incontro con le scuole elementari disegnatori e scrittori incontrano i bambini ci saranno oltre alla presentazione del libro con video momenti di animazione cantano le canzoni ci sarà un momento di lettura animata ogni giorno diversa con la collaborazione di importanti associazioni l'istituto Braga di Teramo ci sarà l'associazione di danza Tersi Corea anche e quindi balletti musiche dal vivo e la cosa importante il primo pomeriggio il 16 alle 15 e 30 faremo una replica per la cittadinanza e per i bambini che vorranno venire dell'opera musicale fatta col Braga e ricordiamo per tutti l'ultimo giorno alle 17 e 30 ci sarà finalmente il momento conclusivo di ogni anno dedicato a Peter Pan io voglio ricordare che è soprattutto un evento di importanza sociale e di beneficenza la vendita dei libri non ci sarà solo Faulà ci saranno altri libri per i bambini presentati durante la manifestazione concorrono a finanziare un progetto per le residenze dei bambini negli ospedali quindi è una cosa molto importante a livello nazionale pagina sportiva con la serie B e con la settimana che porta lo sapete al derby del Biondi di Lanciano sabato prossimo tra Virtus e Pescara intanto sul fronte Biancazzurro oggi doppia seduta agli ordini del tecnico Massimo Oddo non ci sono sostanziali novità continuano a lavorare a parte sia Torreira sia Fornasiera anche se quest'ultimo va via via migliorando anche se difficilmente sarà in campo dal primo minuto nella gara di Lanciano probabile che ci sia Campagnaro al fianco di Zuparic al centro della difesa comunque sia pronto eventualmente Bunoza che ha già giocato e bene nella gara vinta contro la Virtus Entella intanto sul fronte dei biglietti ricordiamo che domani fino alle ore 13 ci sarà la possibilità di usufruire della prelazione per tutti coloro che sono tifosi abbonati del Pescara abbonati alla stagione 2015-2016 dopo le ore 13 di domani la vendita sarà libera solo per i possessori della tessera del tifoso che siano residenti in provincia di Pescara e ricordiamo anche che sono 1236 i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti del Biondi la partita viene presentata con queste parole dal centrocampista Bianca Azzurro Valerio Verre Valerio Verre grande entusiasmo con i tifosi si avvicina il Natale ma si avvicina anche il derby di sabato prossimo a Lanciano si avvicina il Natale ma adesso non ci stiamo pensando perché ci sono tre partite fondamentali e le dobbiamo chiudere con il massimo impegno e più punti possibili ecco quindi siamo concentrati sul lavoro e dobbiamo fare bene tempo di bilanci siamo a fine anno quasi alla fine del girone d'andata per Verre è stato un girone d'andata sicuramente positivo ma io guardo guardo prima la squadra preferisco che la squadra faccia più punti possibili in queste tre partite poi al di là del singolo vedremo se vogliamo trovare un po' il pelo nell'uovo per te è qualche occasione mancata in zona gol ci sei andato vicino in diverse occasioni però sei riuscito a segnare una sola red sì è poco per me spero spero di farne di farne altre aiutare la squadra sicuramente personalmente preferisco farne di più perché comunque ci arrivo sotto porta quindi devo migliorare in quello Valerio torniamo un attimo a parlare del derby di sabato incontrerete una squadra che penultima in classifica che sarà obbligata a vincere quali le insidie le insidie ci sono sono tantissime perché è una squadra è un derby innanzitutto e quindi sarà già un clima molto molto difficile noi andremo lì sapendo che loro daranno ancora di più rispetto alle solite gare ma noi siamo siamo fiduciosi sul fronte Virtus Lanciano è arrivata quest'oggi la squalifica attesa per Antonio Aquilanti che è stata espulsa da Avellino una giornata per lui dunque salterà la gara di sabato tra gli altri squalificati tre giornate al difensore del Modena Tiago Cionec che dunque salterà la gara dell'Adriatico Cornacchia di mercoledì prossimo tra Pescara e Modena tornando alla Virtus Lanciano non ce la faranno a essere della partita per i rispettivi infortuni Zé Eduardo Ferrari e Bastola si confida nella presenza dal primo minuto di Federico Amenta che dunque dovrebbe giocare al centro della difesa al fianco di Michele Rigione sul fronte dei biglietti si è esaurito quest'oggi il diritto di prelazione per tutti quei tifosi che avevano acquistato il tagliando di Virtus Lanciano Cagliari e che dunque avrebbero potuto esibendo questo tagliando avere lo stesso posto e lo stesso settore dunque da domani vendita libera per i tifosi rossoneri in vista dell'atteso derby di sabato sul fronte della Lega Pro il giudice sportivo oggi si è pronunciato e ha fermato per una giornata l'attaccante dell'Aquila San Domenico e ha inflitto un'ammenda di 1500 euro al Teramo poi ci sono anche le designazioni arbitrali per quella che sarà l'ultima giornata di campionato dell'anno solare 2015 dunque Lucchese L'Aquila sarà diretta da Panarese di Lecce assistenti innocenti di Padova e Tribelli di Castelfranco Veneto mentre la partita del Teramo a Ferrara Spalteramo sarà diretta da Baroni di Firenze assistenti Semperboni di Bergamo e Bresmes anche lui di Bergamo domani il Teramo giocherà in Coppa Italia gara secca alle ore 16 contro la Casertana al Bonolis con possibilità anche di supplementari e rigori ma la mente è sempre proiettata al campionato come ascoltiamo come possiamo ascoltare dalle parole dell'attaccante Mirko Petrella diciamo che comunque in questo momento l'importante è fare punti contro non guardiamo la classifica non guardiamo niente l'avversario l'importante è fare punti è chiaro che forse adesso c'è la trasferta più difficile del campionato e proprio da lì penso che dobbiamo ripartire per dimostrare che comunque siamo una squadra forte non siamo dalla posizione in cui ci troviamo potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio per loro nel senso loro devono vincere per forza perché comunque devono mantenere la testa della classifica vengono dal pareggio di Arezzo e quindi sicuramente è una partita difficile come le sono tutte sia in casa che fuori in casa riusciamo a mettere qualcosa in più che ci ha fatto fare tutti questi punti in trasferta qualcosa ci manca e lo dobbiamo trovare sperando che già domenica ci sarà qualcosa in più e loro sono la squadra che comunque a tavolino è la più forte e dovrebbe vincere il campionato quindi sicuramente qualcosa di buono ho visto adesso sta a noi preparare la partita nel modo giusto e consapevole che comunque non siamo al di sotto di nessuno questa svolta diciamo che la stiamo cercando da un po' di tempo e sperando che prima o poi arrivi la vittoria di domenica all'ultimo minuto sicuramente ci ha dato un qualcosa in più da dimostrare domenica in trasferta per quanto riguarda il fatto che comunque è la pressione sicuramente qualcosa che non va in trasferta c'è adesso bisogna capirlo potrebbe essere la pressione che comunque dobbiamo dimostrare quello sicuramente fa tanto però non penso sia l'unico motivo per cui i risultati in casa arrivino e in trasferta prima di chiudere una news di Serie D perché quest'oggi il tandem composto da Michele Gelsi e Fabrizio Pisano ha diretto la prima seduta di allenamento del Giulianova dopo l'esonero deciso ieri dal neopresidente Vincenzo Saraiocco dell'ormai ex tecnico Francesco Giorgini ora ci sono le ultime ore di mercato o gli ultimi giorni di mercato a disposizione della nuova guida tecnica del Giulianova per coordinare le ultime mosse di mercato per tentare la risalita in classifica il Giulianova infatti è ultimo della classe nel Girona F di Serie D è tutto per questa terza edizione del TG6 domani la prima edizione vi ricordo alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.